Pare che i tuoi vecchi ricordi siano stati risvegliati. Sì, ho visto l'erede divino. Capisco, non dirò altro e ti invito a fare lo stesso. Tutto ciò che hai visto appartiene solo a te. Scoltore, cosa ti ha mostrato quel Buddha? Mi stavi ascoltando? Dimmelo. Fiamme. Fiamme? Non vedo altro. Qualunque sia l'offerta che faccio, fiamme. Si estendono a perdita d'occhio e consumano Ashina. E... Qui abbiamo finito. Ho portato del sake. Molto gradito. Non ti piace? No, è molto buono. Ma... Riapre le mie vecchie ferite. Il tuo braccio sinistro? Sì. E poi questo sake era il preferito... dell'uomo che mi ha tagliato il braccio. Chi è stato? Lord Isshin. Isshin. Perché? L'ha fatto per il mio bene. Stavo per essere consumato. Consumato da cosa? Da uno Shura. Beh, se tu voglia credermi o meno, spetta a te decidere. Ma farei meglio a temere l'ombra dell'Oshura. Con quella canna meccanica, quante possibilità. Posso usare vari agenti purificatori per affinare ulteriormente la tua zanna. Quindi, se trovi qualcosa di simile, portalo a me. Sono felice che tu sia qui, Mastro Lupo. Addio. Mastro Grazie a tutti. 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 che... e a tutti. 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 a tutti.